Bel tempo e a quanto pare hanno indovinato, cielo sereno e terzo stasera, nemmeno l'ombra di una nuvola. Condizioni perfette per una bella partita di pallone, sia tra amici che a questi livelli professionistici. I giocatori insieme ai tifosi vorranno vedere i loro sogni volare alti verso il firmamento di questa splendida serata. Accompagniamoli allora nel loro slancio verso il bel gioco e la vittoria. Questo è un complesso sportivo che non passa certo inosservato. Giocare tra queste mura è un sogno per ogni professionista. Vengono da una serie di... e l'arbitro assegna un calcio di punizione a seguito del fallo. E c'è già un calcio di punizione da posizione pericolosa. Forse da qui è un po' lontano, ma abbiamo visto gol da distanze anche maggiori. Prova la conclusione. Approvato di potenza. Scodella in avanti. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Castanos. 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 È un grande riflesso qui. Ha messo alla prova il portiere. Tu bisogna lodare l'estremo difensore. Non si è fatto superare. Balsano. Lancio lungo del portiere. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Castanos. Si fa avanti il territorio. Castanos! È decisamente fuori bersaglio la sua conclusione. Hanno nuovamente dimostrato quanto stanno rendersi pericolosi sfruttando le ripartenze. Grazie. Castanos. Castanos! Castanos. Riceve un pallone interessa. Occhio alla conclusione. Tiro davvero da dimenticare. L'efficienza nel contrattacco è una delle migliori opzioni a loro disposizione. Devono essere più cinici. Siamo ancora in attesa del primo gol. Per il momento 0-0. Balsano. Del Grosso. L'appoggio sulla fascia. Cerca attraversone. Spazza via senza fronzoli. Pallone lungo in verticale. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Tenta la conclusione. Ma poteva certamente fare meglio. Tenta di scavalcare la mediana. L'azione si stava facendo pericolosa. Ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo. E trova bene il compagno. Stanno provando a cambiare il risultato fino all'ultimo. Uno sforzo incomiabile. La gioca in profondità. È libero di creare pericolo. Tocca con la testa. Nota la conclusione. E c'è! È dentro! Un gol decisivo! Si è avventato sul pallone e l'ha messo dentro. La difesa ha sbagliato. Ma lui è stato bravissimo a seguire l'azione e a indurgli all'errore. Due sostituzioni in rapida successione. Costituzione comprensibile. Sembrava molto stanco. Meglio far entrare un giocatore fresco. Sono in vantaggio. Devono gestire in questi lunghissimi minuti finali. Meglio in questa circolazione della palla. Non hanno più tanto tempo per rimediare. Palla lunga a cercare il reparto offensivo. Castanos! Devono cercare di essere più concreti se vogliono recuperare. Sulla fascia, in profondità. E passa! Cerca lo spunto! Non c'è fuori gioco, si può... Schans per tirare! E il pallone finisce il metodo! E hanno voluto un altro. Adesso lo possono gestire con più calma. Fantastico! Questi due giocatori parlano la stessa lingua calcistica. Marcamento e passaggio sono stati un'intesa perfetta. E a questo punto... Questa è passaggio! Questa è passaggio! Questa è passaggio!